Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Ciao, sono Lucia Dell'Albani e frequento il terzo anno del corso di Scienze della Mediazione Interlinguistica e Interculturale. Dalla Sicilia ho attraversato tutta l'Italia per frequentare l'Università degli Studi dell'Insubria qui a Como. Il piano di studi mi ha offerto la possibilità di coltivare quella che da sempre è la mia passione, vale a dire le lingue e in particolare russo e tedesco, ma qui ho avuto anche la possibilità di scoprire e per approfondire il mio interesse per il diritto. Questa caratteristica unica del corso di studi è indispensabile per tutti coloro che, come me, sognano in futuro di lavorare presso un'organizzazione europea o sovranazionale.